Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video E' finito l'Europeo ormai da un po' e quindi si sa ormai chi sarà il futuro CT della Nazionale Ovvero Gian Piero Ventura, io vi volevo dire la mia ma prima come sempre sigla Allora partiamo dal presupposto che a me mi sta sul cazzo Ventura Mi sta sul cazzo perché ormai si sanno i precedenti suoi con la Roma Cioè ovviamente è stato sempre un caso però è capitato che quando gioca con la Roma Ti mette pure Gesù e la Madonna in campo, quando gioca contro gli avversari della Roma Ti mette bambini, piccolini, i suoi figlioli, però i figlioli avevano poi Ogni volta rompe il cazzo solo con la Roma, dei rigori, punizioni Vabbè ma comunque queste cose sono i miei punti di vista che possono essere condivisi o meno A parte questo i romanisti sapranno di che parlo A parte questo passiamo a Ventura, a me mi sta sul cazzo Però ragazzi è bravo e questo c'è da dirlo, è bravo Cioè sa far giocare bene la propria squadra E non è che se l'ultimo anno è stato disastroso con il Torino Vuol dire che è un allenatore disastroso Anzi, però c'è da dire che questa scelta ha dei pro e dei contro Che noi analizzeremo in questo video secondo il mio punto di vista Un pro immediatamente, una cosa positiva, una cosa a favore È che si passa da un 3-5-2 a un altro 3-5-2 Perché come Conte giocava appunto con il 3-5-2 Con gli esterni larghi che andavano a fare, fase difensiva e fase offensiva Lo stesso fa a Ventura, l'ha sempre fatto con il Torino e lo farà anche il nazionale Questo può essere una cosa buona perché non cambiare modulo E quindi non cambiare troppi giocatori per quanto riguarda il pacchetto della nazionale È cosa buona e giusta, i giocatori si stanno conoscendo Come hanno detto in molti non sono una selezione ma sono una famiglia Per cui il non cambio di modulo porterà a un non cambio di Un non stravolgimento delle scelte dei giocatori Un contro però, un problema è che Conte era Conte Ora con tutto il rispetto per Ventura, gioca bene bla 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 Conte ragazzi era Conte È vero che Conte prima di andare alla Juve non aveva fatto chissà che Cioè bene con il Bari, bene con il Siena bla 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 Però Conte è Conte, Conte ha una verve Conte ha una, si dice in Napoli una cazzimma Conte ha le palle quadrate Se se gli fai qualcosa a Conte ti ha i capelli e ti butta fuori Conte se incazza, urla, si alza, esulta Fa scelte un po' particolari ma se ne prende la piena responsabilità Conte è Conte e questo c'è da dirlo Conte è per me il miglior allenatore in Italia Poi ovviamente possiamo parlare di Allegri, di Spalletti, di tantissimi allenatori che ci stanno in Italia Ma Conte è Conte E generalmente io penso che il CT dovrebbe essere il miglior allenatore in Italia E comunque se non il migliore, uno dei migliori E ce ne sono tanti C'è lo stesso Conte ma c'è Allegri, c'è Spalletti, c'è Capello, c'è Ancelotti, c'è Ragneri E portare Ventura per quanto può essere bravo e carismatico non lo so È comunque un rischio perché sì tu gli provi a far fare il salto di qualità che non ha mai fatto Però fare il salto di qualità nazionale non è cosa semplice, questo c'è da dirlo Cioè tu lo porti, porti un allenatore che ha allenato sempre al massimo il Torino E diciamo che avere un Ventura nazionale piuttosto che un Conte Come allenatore si perde anche il blasone Non dico il blasone internazionale perché l'Italia ha preso sempre l'Italia Sia se l'allena Ventura sia se l'allena Conte Ma il blasone di convincere magari i grandi campioni a venire lo stesso Ad esempio Buffon, Barzagli, Chiellini, Manpirlo con Conte Sarebbero venuti con tutto il cuore È un po' diversa la situazione con Ventura Per me verranno lo stesso perché loro giocano più per la nazionale Però Conte ha un... verso Conte molti campioni hanno un occhio di riguardo Però c'è anche un altro pro che è quello a favore di Ventura Che lui favorisce molto il cambio generazionale Cosa voglio dire? Ve ne cito due in particolare Al Torino ha lanciato lui Benassi e ha lanciato lui Janssen nell'ultimo anno Poi ne ha lanciato i ragazzi una fracca di giocatori Ventura Andiamo a vedere i suoi trascorsi a Torino e ha lanciato un sacco di giovani Questi sono i primi due che mi vengono in mente E comunque è una buona cosa lanciare i giovani E in nazionale per i prossimi anni, per il prossimo avvenire ce ne sono una fracca Già vediamo Donnarumma, Sportiello, Rugani, Romagnoli Benassi, Berardi, Zappacosta, Sturaro Lorenzi, Insigne, Bernardeschi, Verratti, Pelotti Cosa voglio dire? Voglio dire che essendo un allenatore comunque bravo, capace con i giovani Può favorire il futuro italiano e questa è una gran cosa Dovrà però tenersi un'eredità pesante Eredità pesante perché Conte ha fatto bene con la nazionale Per me arrivare ai quarti di finale dopo questo cammino è fare bene E ha fatto bene Bisogna vedere se riuscirà a tenere alta questa eredità molto molto pesante Molti hanno fallito, vediamo bene I Dez che è andato all'Inter e dopo Mourinho non ci ha capito più un cazzo E poi vabbè quelli che sono arrivati tutti dopo Mourinho non ci hanno veramente capito più un cazzo Ma in generale perché dovevano tenere su un'eredità pesante Che era quella dello Special One Così dovrà fare Ventura, comunque per me ci riuscirà Però non è una cosa facile Ora vedremo comunque Ventura come prenderà la nazionale Perché tra settembre e ottobre ci saranno tre amichevoli Tra cui due di livello In una ovviamente affronteremo l'Israele che è quella un po' più Diciamo un po' meno di livello Nelle altre due affronteremo la Spagna e Mi pare siano amichevoli Spero siano amichevoli insomma La Spagna e la Francia Ma c'è da dire ragazzi che avremo un girone di qualificazione molto duro Quindi lì si vedrà veramente tutto Avremo nel girone di qualificazione la Spagna e l'Albania Tra tutte diciamo Abbiamo anche le altre ovviamente la Macedonia Le squadre un po' più deboli Però comunque Innanzitutto anche quelle deboli sono molto insidiose Lo sapete ormai come la penso Però comunque avere due squadre che All'Europeo hanno fatto molto molto bene La Spagna è forte Anche se l'Europeo non ha fatto i sacchie La Spagna è fortissima L'Albania ha fatto bene È stata eliminata ma ha fatto comunque molto bene E saranno molto insidiose Poi bisogna pensare anche che ne passa solamente un E la seconda va a fare i playoff Quindi questo girone sarà veramente come giocassimo un europeo Un mondiale Bisogna impegnarsi al massimo Perché se no col cazzo che lo passi E col cazzo che va a giocarti il mondiale Detto questo ragazzi Io vi dico solamente di credere In Ventura Perché per me può fare molto molto bene Ve l'ho detto Gioca a pallone Gioca Fa giocare a pallone Fa giocare a calcio I propri giocatori Quindi state tranquilli Che con Ventura Andiamo tranquilli Ovviamente ve l'ho detto Se fosse stato un allenatore Con più blasone Più blasone Vedi Ancelotti Vedi che abbiamo Sare stato un po' più tranquillo Però generalmente Sono contento Che Conte lasci Un'eredità in mano Con un allenatore Che opta ancora per il 3-5-2 Che abbia Una visione positiva Verso i giovani E che sappia far giocare bene I propri giocatori Detto questo ragazzi State tranquilli Io vi ringrazio per la visione Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Se il video Ho fatto cadare Ovviamente un dislike Buasciala dalla E ci vediamo Ad un prossimo video